In quel tempo, i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre, per quale di esse volete lapidarmi?» Gli risposero i giudei «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Disse loro Gesù «Non è forse scritto nella vostra legge «Io ho detto, voi siete dei?» Ora, se essa ha chiamato Dei, coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandate nel mondo, voi dite «Tu bestemmi, perché ho detto sono figlio di Dio?» «Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre». Allora, cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero, e in quel luogo molti credettero in lui». Hanno capito benissimo i suoi avversari, è evidente. Gesù pretende di essere il figlio di Dio. In un ultimo timido tentativo di difendersi, il Maestro cita la scrittura, più precisamente il Salmo 82, che così proclama «Io ho detto, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo». Gesù non cerca una scappatoia citando il Salmo, lo sappiamo, sa che sta aggiungendo la sua ora. Cogli invece questa opportunità per tentare di confutare le superstrutturate difese teologiche di chi gli sta davanti, per metterli un pochettino in crisi, ma non serve a nulla. Anzi, ogni nuova provocazione di Gesù fa salire la tensione alle stelle. L'ostilità nei suoi confronti ha raggiunto il culmine, è proprio vero. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Quindi oggi scatta la sentenza. Gesù è accusato di bestemmia, quindi reo di morte. Pensate, Dio manda il suo figlio sulla terra per dire al mondo che lui ci ama, che è il Dio con noi e che noi gli apparteniamo, eppure questo figlio, nel momento in cui balbetta la sua origine, la sua divina provenienza, viene fatto fuori, in nome della stessa legge di quel Dio che vuole venire a salvarci. Allora niente più salvezza. Il figlio è restituito al mettente dagli uomini. Missione fallita? Tutt'altro. Il fallimento stesso diventa mediatore di salvezza. La croce che dipinge l'atto di accusa degli uomini nei confronti di Dio diventa paradossalmente il luogo della nostra salvezza. Per fortuna Dio è andato oltre all'ingratitudine umana per fare il nostro bene. Dio è andato oltre all'ingratura.